L'integrazione tra trasporti su ferro e gomma per una mobilità sempre più sostenibile e integrata Resta anche nel 2019 una priorità della regione toscana Obiettivo incentivare il più possibile l'utilizzo dei mezzi pubblici rispetto a quelli privati Anche attraverso investimenti importanti che ad esempio sul fronte dei treni Hanno portato negli ultimi 4 anni all'entrata in servizio di 80 nuovi convogli Alcuni finanziati direttamente dal bilancio regionale nell'ottica di un rinnovamento dei mezzi Che deve riguardare anche quelli su gomma, cioè circa 2.900 bus che ogni giorno sono in servizio in Toscana Stiamo lavorando su un trasporto pubblico locale che si basa sulla cura del ferro Quindi la priorità alla treno, alle tranvie Fortemente integrato con un trasporto su gomma che sia nell'urbano sia nell'esturbano sia anch'esso fortemente integrato E consenta alle persone di avere delle opportunità nelle realtà urbane ma anche nelle aree interne Sul fronte del trasporto ferroviario nei mesi scorsi la giunta regionale ha approvato una delibera Che conferma la volontà di sottoscrivere con Trenitalia un nuovo contratto di servizio Che prevede l'estensione dell'affidamento fino al 2033 in cambio di un aumento degli investimenti L'obiettivo è potenziare sempre di più la cosiddetta cura del ferro A che punto siamo? Con Trenitalia siamo attualmente in regime di contratto ponte Sei anni più tre che hanno previsto, come ho detto, circa 290 milioni di nuovi treni Sono circa 80 quelli che sono entrati in servizio Ma nel frattempo abbiamo anche studiato delle soluzioni migliorative nei confronti dell'utenza Ad esempio per quanto riguarda gli studenti che sono iscritti all'Università di Firenze È entrata in vigore grazie alla collaborazione tra la Regione, il Comune di Firenze L'Agenzia per il diritto allo studio regionale La carta unica dello studente che prevede la possibilità di andare ad utilizzare i mezzi dell'area metropolitana Sia la gomma, sia la tranvia, sia il treno nella tratta urbana gratuitamente Perché questo è caricato sulla carta dello studente Stessa cosa stiamo in questo momento anche valutando e ragionando con l'Università di Pisa e di Siena Per proporre anche agli studenti iscritti a quelle università La possibilità dell'utilizzo del mezzo pubblico a prezzi molto vantaggiosi Per incentivare l'uso dei treni poi è stato disposto dal 1 luglio 2019 L'avvio dell'abbonamento unico metropolitano Che permette di usare con un solo biglietto tutti i mezzi pubblici dell'area metropolitana fiorentina A prezzi vantaggiosi Con Trenitalia la Regione ha anche deciso di migliorare ulteriormente il servizio cortesia e sicurezza Rivolto ai passeggeri che usano i treni regionali E poi c'è il capitolo del rinnovamento di stazioni e infrastrutture Con Trenitalia e con RFI in questi anni attraverso una collaborazione Anche attraverso un pressing molto serrato che noi abbiamo fatto nei loro confronti Sono in fase di ristrutturazione, di adeguamento, di riqualificazione Moltissime stazioni ferroviarie Sono in corso molti investimenti anche sull'infrastruttura Ma la cosa che noi ci aspettiamo perché è fondamentale per dare il via al futuro servizio metropolitano Quindi un cadenzamento di circa un treno ogni 10 minuti nella tratta metropolitana È quello di vedere ripartire i lavori del sottoattraversamento di realizzazione della stazione Foster nell'area Belfiore Perché soltanto quando questi lavori saranno realizzati Potremo recuperare spazi di gestione dei treni regionali nell'ambito della stazione Santa Maria Novella Quindi quello è un lavoro importante e fondamentale Non soltanto per il transito degli AV Ma soprattutto per quanto riguarda invece il servizio regionale Che ne trarrà un grande beneficio E in tema di infrastrutture ferroviarie La regione ha anche posto a RFI la necessità urgente di iniziare a programmare e riprogettare La linea direttissima a partire dal Valdarno Solo in quel modo si eviteranno le interferenze Che purtroppo visto l'aumento esponenziale dei treni veloci Che ogni cambio orario vengono immessi Si verificano anche delle maggiori interferenze Che invece in quel modo verrebbero superate Vorrei anche sottolineare l'impegno di miglioramento infrastrutturale Legato al raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca E quello previsto per quanto riguarda la Granola Empoli E l'elettrificazione della stessa tratta ferroviaria tra Siena e Empoli Per quanto riguarda il trasporto su gomma Dopo il decreto di assegnazione della gara unica regionale ad Autolinea e Toscane Che cosa succederà? In questo momento è stato trovato un accordo Per cui saranno svolte tutte le attività propedeutiche Per quanto riguarda l'eventuale passaggio del servizio Con la firma del nuovo contratto Noi lo abbiamo detto in maniera molto chiara Vorremmo arrivare alla fine dell'anno Quando avremo anche ascoltato la sentenza del Consiglio di Stato Che ancora è un passaggio che tiene su giudice Anche questa assegnazione definitiva fatta a Autolinea e Toscane Avendo le condizioni per poter firmare un contratto degli 11 anni Quello appunto previsto dal capitolato di gara Con chiunque dovesse risultare vincitore A seguito della sentenza del Consiglio di Stato Cosa prevede nello specifico il nuovo contratto per il trasporto pubblico locale su gomma? Il nuovo contratto prevede molti investimenti Circa 2.100 mezzi nuovi Dovranno essere forniti da chi risulterà vincitore Inoltre dovranno essere anche rimodulate, razionalizzate Ulteriormente implementate le varie linee Tutto il progetto di rete che nei primi due anni sarà oggetto di rivisitazione Proprio nella chiave di una maggiore integrazione Sia tra urbano, esturbano e con il FER Nel frattempo è operativo il contratto ponte Che ha affidato la gestione del servizio di TPL In via transitoria su tutto il territorio regionale con un preciso obiettivo Per uscire dagli obblighi di servizio Che avevano eccessivamente ingessato il sistema Ridotto molto gli investimenti e tolto prospettiva Con il contratto ponte invece sono previsti tra il 2018 e il 2019 350 mezzi nuovi Dei quali circa 300 sono stati già consegnati 84 arriveranno nei primi mesi del 2020 Molte le sperimentazioni in corso Come i servizi di collegamento tra i paesi della collina in Valdarno E i primi contratti stipulati per i lotti delle linee deboli Modellati sulle esigenze delle realtà locali Come cambierà quindi nel prossimo futuro La vita di tutti i cittadini che si spostano con gli autobus? Ma è chiaro che ogni volta che entra in servizio un mezzo nuovo Significa maggiore comfort, significa maggiore sicurezza Significa anche la possibilità di un viaggio Che sia possibile scegliere anziché dover subire magari Da parte delle fasce più deboli che sono gli studenti e che sono i lavoratori In Toscana trasporto pubblico significa anche collegamenti con le isole Quali sono le novità per il trasporto marittimo? Anche per quanto riguarda il mare ci sono dei grandi benefici Che sono venuti dopo la gara che è stata fatta nel 2011 In termini di rinnovo della flotta In termini di miglioramento del servizio Ogni anno garantiamo servizi con oltre 18.000 corse 8.000 delle quali sono nella tratta tra Piombino e l'Isola d'Elba Ma tutte le nostre isole sono servite Assistiamo anche ad un aumento dell'utenza Circa il 6% negli ultimi anni Quindi questo probabilmente dimostra che c'è un apprezzamento del servizio E della continuità territoriale che noi riusciamo a garantire alla comunità delle nostre isole Quale obiettivo si è posta quindi la Regione adottando i provvedimenti in materia di trasporto pubblico via mare? Cercare di abbattere non solo le distanze ma anche le diseguaglianze Allora così come dobbiamo garantire una mobilità che sia funzionale Nelle realtà urbane dove si concentrano gli interessi Dove si sviluppano di fatto presenze per oltre il 50% di chi prende un mezzo pubblico ogni giorno Dovano anche le realtà periferiche, siano le aree interne, siano le isole devono essere servite Osservando nel complesso la rete del trasporto pubblico in Toscana Come si possono riassumere quindi gli impegni della Regione in fatto di TPL? Ogni anno far viaggiare circa 800 treni al giorno Circa 2.900 mezzi su gomma al giorno Far viaggiare i nostri traghetti costa circa 550 milioni all'anno Di questi 120 vengono dal bilancio della Regione E gli altri dal Fondo Nazionale di Sostegno al Trasporto Pubblico Locale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti